42 tanti sono gli alberi censiti a Montemurlo e che il Comune segnalerà alla Regione per ottenere che vengano inseriti nell'elenco nazionale delle piante monumentali italiane, del quale fanno già parte oltre 22.000 esemplari botanici divisi in due sottoelenchi di grande interesse e di eccezionale valore storico e monumentale. Alberi del cuore, come li ha definiti il Sindaco. La lista di quelli che meritano di essere tutelati e protetti è stata stilata con il contributo dei cittadini che sono andati a caccia dei giganti verdi che sono protagonisti del paesaggio e che senza i quali Montemurlo cambierebbe volto. Nella lista che l'amministrazione comunale si appresta a inviare alla Regione e che la valuterà prima di trasmetterla alla Commissione nazionale, figurano il quercione del mulino in via Montalese, l'ulivo di Randazzo in via Cicignano, il filare di faggi alla fattoria di Giavello, i platani di Villa Giamari e il cipresso di via Riva a Bagnolo. Gli alberi sono monumenti della natura, spiega il Sindaco Mauro Lorenzini, e costituiscono un valore inestimabile, valore da conoscere, tutelare e omaggiare. Ci auguriamo che le nostre piante possano trovare riconoscimento a livello nazionale, ma in ogni caso il censimento è stato per noi molto importante per rilevare un patrimonio di valore straordinario. A Montemurlo in passato erano già stati fatti censimenti sulle piante, il primo nel 2001 riguardò in particolare l'area protetta del Monteferrato, poi nel 2007 lo stesso censimento fu implementato e inserito nel piano territoriale di coordinamento della provincia. Grazie a una legge statale del 2013, comuni e regioni sono stati chiamati a compiere periodicamente una ricognizione degli alberi, significativi non solo per le dimensioni, ma anche per l'età o per essere stati al centro di avvenimenti storici.